Un circuito che ha scritto la storia delle corsi automobilistiche, il Nürburgring, un tracciato che si snoda intorno al castello del Nürburgring in Germania, è stato luogo di tante soddisfazioni per Audi. La casa dei quattro anelli ha infatti collezionato ben cinque successi nelle ultime otto edizioni della 24 ore, tutte con l'Audi R8. E per celebrare questi successi Audi presenta R8 Greenhill, soprannome del famoso Circumito. Una vettura esclusiva prodotta in soli 50 esemplari che si caratterizza per la vernice verde ripresa direttamente dalla R8 da corsa. Le similitudini con la vettura che partecipa alla 24 ore del 2020 continuano con le grafiche nere opaco lunga tutta la carrozzeria ed i vistosi cerchi rossi da 20 pollici. L'interno è scandito da un largo uso di pelle nappa nera che si alterna all'Alcantara, creando un ambiente racing dal quale emergono le cuciture a contrasto verdi in richiamo alla carrozzeria. Arrivando al cuore della R8 Greenhill, sotto al cofano troviamo il V10 da 620 cavalli, un aspirato derivato direttamente dalla R8 V10 Performance che risponde in maniera immediata ad ogni singola pressione dell'acceleratore e permette un'impronta sonora degli scarichi non replicabili dai sistemi di propulsione turbocompressi che hanno ormai assalito il mercato. I numeri di questa supercar dichiarano 0-100 in 3 secondi e 1 ed una velocità massima di 331 km orari. Per scaricare in modo ottimale la potenza di questo 5,2 litri non possono mancare soluzioni tecniche specifiche come la trazione integrale, il cambio automatico doppia frizione e il differenziale autobloccante meccanico al posteriore. Il divertimento è assicurato. Grazie a tutti.